ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui che ho recuperato anche terminator 2 il giorno del giudizio in italiano schwarzenegger bellissima immagini di copertina con il schwarzenegger qui e dietro il t800 gli occhi del t800 blu ray disc universal molto bella immagine di copertina questo è il laterale terminator 2 il giorno del giudizio l'uray disc la perfezione di suono ed immagine poi ci stanno i contenuti speciali versione director scat versione estesa scene eliminate trailer commento audio del cast e della truppa e molto altra ancora con alcune immagini film vediamo l'interno tutto bianco con il disco qui change mentre questa volta non titolo non italiano e niente ragazzi metti il viaggio commentare iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli